Ciamborno ragazzi, pochi cavoli e benvenuti in questo nuovo video Oggi, come avrete potuto leggere dal titolo, aprirò due pacchetti di match attack Come sapete avevo cominciato questa serie di match attack e gli altri pacchetti Non so quanto tempo però cominciamo il primo pacchetto Abbiamo John Stones, Jason Panciun, Wesley Haddad, Andy King, Andy Carroll Pascal Gross, Will Hook, stoppione, simbolo del Huddersfield E la cacciata in mano di match Il secondo e l'ultimo pacchetto Abbiamo James Milner, Specialist, sepi Specialist Abbiamo Steven Defoe, abbiamo poi Gianmat, c'è Chiota, Islam Islami Jeff Hook Wilfred Boni Filippo Cotigno, no, Roberto Firmino E Alex I uomini Quindi, questo è la fine del video Se volete che continui a fare questa serie di spacchettamenti di match attack o qualche altra cosa Martedì è la prossima uscita di match today che tiene 5 cards di questo Se vuoi lasciare un bel mi piace Non c'è altro da dire e ci vediamo al prossimo video Ciao